Come vedete si respira ancora, ma sono un po' triste perché una delle mie sostenitrici, la Pia sposata Zanoni, quella che abitava sopra al municipio, credo che l'abbiate conosciuto tutti, ha avuto un malore, è stata ricoverata, ha avuto dei grossi problemi, quindi mi permetto di invitare tutti coloro che mi ascoltano a fare un pensiero di sostegno per questa Pia, la mia grandissima sostenitrice e anche in certe volte critica. Allora veniamo alle trasmissioni che vogliono che io continui a fare questi due signori, il signor Gadas e il signor Parisi che è qui di fronte. Allora ognuno di noi non è completamente originale, credo che ognuno di noi, non dico che si ispiri, ma che abbia dei riferimenti, un personaggio, un attore, un libro, qualche cosa c'è sempre. Il sottoscritto ha dei riferimenti, riferimenti che possono essere delle frasi, delle massime, non so dirvi, chiamate il Parisi come le potremmo chiamare, modi di dire, scritti da persone che hanno una certa competenza. Il primo riguarda il calcio, io ho sempre sostenuto che chi anticipa segna gol. Trump ha vinto perché qualcuno non ha anticipato in America, bisognava anticipare certe riforme, bisognava anticipare certe soluzioni e allora purtroppo ha perso perché la nostra Clinton ha perso e Trump ha vinto. Allora chi anticipa segna gol. Il secondo, il secondo, il secondo è latino, che me l'ha insegnato, me l'ha messo in evidenza il mio amico avvocato Fracchetti di Riva, che dice, è di Catone, rem tene verba sequentur, ve lo traduco perché se no, eh, dischi, non mi dico a tutti i suoi latino. Allora, rem deriva dalla parola res rei, la cosa, che può essere inteso anche l'argomento. Tene, da tenere, tenere anche nel senso che conosce un argomento e lo teni dentro, se dice il dialetto, giusto? tenere anche nel senso di conoscere una cosa. Verba, parole, le verba in latino sono le parole, verba sequentur, si susseguono. Allora se hai un argomento in mano, lo conosci, le parole si susseguono. Il terzo è sempre dell'avvocato Fracchetti, ma questo è il suo, originale suo, l'altro era di Catone. che dice, conti spesso a moderare le voglie, spendere meno di quello che si raccoglie. Ecco, ne parleremo di questo qua, perché quando lo cito mi viene sempre il debito pubblico italiano, allora conti spesso a moderare le voglie, spendere meno di quel che si raccoglie. normalmente è quello che fanno le nostre carissime casalinghe. L'altro è di tipo, sentiamo un po', latino. È discusso se sia proprio dei latini o della scuola salernitana, si dice che sia latino. Esigenzia ventris dilazione non patitur. Le esigenze del ventre non ammettono dilazioni. Allora se uno ha una certa esigenza, una certa ispirazione, bisogna che dia seguito a questa ispirazione. Perché se no possono esserci delle conseguenze. Ne parleremo in un altro argomento. Allora, esigenzia ventris dilazione non patitur. Quando si gallerà, si gallerà. E l'ultimo invece è un motto che ho sentito spesso e che a me piace molto. Che se dovessi avere uno stemma nobiliare, glielo farei scrivere sotto. Coppa, pela e magna. Che cosa vuol dire? Coppa, pela e magna. Prendi un galletto, te che tai la testa, te il peli e te il metti ad arrostire. E questa è un po' la caratteristica del sottoscritto. Perché mille robe, quando diciamo, coppa, pela e magna. E non stiamo a discuterci e non rimandiamo. Non è come col nostro Parlamento che poi lo manda al Senato. Il torno a Andrillo che tutta la discussione che faremo un'altra volta sul nostro referendum. Perché mi riservo di intervenire ancora sul referendum. E anche sul Italicum, sulla legge elettorale. Allora oggi facciamo chi anticipa segna gol. Gli altri posso riservarli per altre volte, ma li facciamo dei flash. Giusto? Allora, nel mondo dei farmacisti, il sottoscritto ha avuto un posto di responsabilità per parecchi anni. Forse troppi. E quando andavo nella capitale, con quell'ambiente dei miei colleghi, sempre conservatore, non si può toccare, non si può dire niente perché se si dice, se si parla, se si fa, eccetera, eccetera. Quindi bisognava lasciare stare tutto perché le cose andavano bene così. E io invece dicevo sempre, guardate ragazzi, che bisogna vivere il mondo del calcio. Oggi ci siamo nel mondo del calcio. Chi anticipa segna gol. Non quel che si mette in difesa e sta sempre nell'aspettare di difendersi che poi a un certo momento si ciapa dentro i gol nella rete. Perché la cosa che dicevo e che mi permetto di dire è che tante volte le classi commerciali, imprenditoriali, dovrebbero sedersi a un tavolo e proporre loro, facendo autocritica, delle soluzioni. Quella che dicevo sempre ai miei colleghi è che noi avremmo dovuto preparare noi una legge, che era una legge più moderna sulle farmacie e non avere ancora il numero chiuso, eccetera, eccetera, e fare una cosa fatta da noi che sarebbe stata fatta secondo dei criteri delle persone che conoscevano loro e non dal politico che magari va al governo come dire che la manega dei farmacisti e la manega dei ladri aspetta che il sistema mi è che dà con la legge. E la stessa cosa è successa per i commercianti e è successa per tanti altri signori. Vale per anche i notari, vale per gli ingegneri, vale per i medici. Molte volte, molte volte sarebbe opportuno sedersi a un tavolo con i politici e proporre qualche cosa che sia innovativo. Oggi noi ci troviamo nella situazione, Trump, la dimostrazione, la dimostrazione che qui in Italia che quando uno anticipa che vuole fare qualcosa di nuovo, ostia, arriva tutto l'ambiente conservatore, che vi va a tirar fuori il pele di nuovo. Ma se si cambia così succede con l'altro, con quel referendum lì che mi viene un di quei bolori, che non vi dico altro. Allora, la regola è che chi anticipa segna gol. Questo avviene anche nella nostra vita, molte volte se noi anticipassimo certe soluzioni. Ma pensate che ci sarebbe successa la rivoluzione in Russia, in America, la guerra sud e nord, la rivoluzione francese, se coloro i quali avevano in mano il potere non avessero anticipato e avessero fatto delle riforme che erano risolutive per tanta gente che aveva bisogno. E vi dirò che molto spesso oggi penso al nostro paese, perché oggi noi abbiamo parecchia gente che è in una situazione di forte indigenza, ma i governi sono fortunati perché l'indigenza è a livello di persone che hanno una certa età, per cui la rivoluzione non puoi più farla perché si va fuori, oigan carosella, oiga sgherli, oiga mal de panza, oiga tutti quelli che seguono l'artrosi, l'artrite o la schiena rotta come Carlo Tamarini e allora non vanno a fare la rivoluzione. Perché se per caso dovesse invertirsi la cosa, che improvvisamente tutte queste persone indigenti dovessero avere 25 anni, evoli a vederli, che seria da ridere. Quindi finiamo dicendo che chi anticipa segna col.